Inaugurato il centro di ascolto della città di Casarano, uno spazio, quello voluto dalle cinque comunità parrocchiali, rivolto a soggetti deboli, a fasce meno abbietti e fragili. Il centro si trova nei locali del consultorio familiare diocesano, nel territorio parrocchiale del Sacro Cuore, ed è operativo già dal primo lockdown del 2020. Intanto è un'espressione di una comunità che sente la sensibilità di stare attenti a tutte le varie povertà e si mettono insieme tutte le parrocchie, tutti i volontari, per avere un centro, una regia, in modo che ci sia capacità di ascolto e anche una risposta ai bisogni che verranno qui. È un luogo davvero di convergenza, di osservazione, ma soprattutto di espressione della carità di una comunità intera, di una città. Il centro di ascolto si inserisce nel contesto di un più ampio programma della Caritas diocesana di Nardogallipoli, guidata da Don Giuseppe Venneri, il quale esprime grande soddisfazione per questo importante luogo di solidarietà. All'interno del centro opera già da tempo un'equip di volontari, tra cui esperti qualificati, che possono intervenire in ampi settori sociali. Il centro di ascolto cittadino è costituito da un gruppo di volontari e di esperti. Volontari che vuol dire vivono la loro vocazione cristiana, che vedere nell'altro un fratello e quando l'altro ha bisogno noi spontaneamente ci doniamo per soddisfare questo bisogno. Quindi diventa un dovere, ma anche un'espressione proprio del nostro essere cristiani.